Musica Natale in vetrina, ecco i vincitori. Giunge a conclusione l'edizione 2018 del concorso organizzato dal distretto del commercio Malpensa Nord Ticino con il sostegno di Confcommercio Ascom Gallarate Malpensa e Varese. Domenica 13 alle 16 al Teatro Comunale di Varano Borghi prenderanno il via le premiazioni. Sul palco affiancato da Barbara Gorlini dell'Agenzia di Comunicazione Web Creativi il divertente Germano Lanzoni, volto del milanese imbruttito. Quest'anno ci sarà un ospite d'eccezione che è Germano Lanzoni, è un volto noto del web perché è il volto appunto l'attore del milanese imbruttito che tanto spopola sui social media. Ma la domanda che io vi sto ponendo da circa una settimana è ma dove c***o è Varano Borghi? Vabbè c'ho un tempo fino al 13 gennaio per scoprirlo. Ci vedremo? Forse. Sul palco anche alcune splendide modelle che sfileranno per InStyle abbigliamento di Sesto Calende. Uno spazio speciale sarà dedicato poi ai vincitori del fiorino d'argento di Varano, la manifestazione Canora per bambini, che quest'anno compie 40 anni. Come ogni anno saranno premiate le tre vetrine natalizie più belle di ognuno dei comuni del distretto, dunque Somma Lombardo, Sesto Calende, Gollasecca, Angera, Taino, Varano Borghi, Mercallo e Mornago. Un premio speciale verrà attribuito alle tre migliori vetrine di tutto il distretto, alla vetrina floreale e all'allestimento esterno o interno più votati tra gli otto comuni partecipanti. Ci sono delle premiazioni all'interno del comune, il primo, il secondo e il terzo premio di ogni comune e poi ci sono i premi del distretto, il primo, il secondo e il terzo del distretto, la vetrina floreale che da anni è stata divisa perché ha delle caratteristiche un po' diverse, i florovivaisti o i fioristi, e poi un premio speciale del presidente del distretto. Premiate tra le tante qualità e caratteristiche delle vetrine, la creatività e l'originalità. Alcune vetrine per la fantasia, la fantasia che hanno usato nell'allestire le vetrine e che ha colpito molto noi. Infatti abbiamo premiato la fantasia in quanto espressione della vetrina e della persona e del commerciante che ci lavora dentro. Difficile a farsi, l'amore, si intitola così il secondo romanzo della trilogia firmata dalla giovane Lisa Negrelli. Il volume verrà presentato in Sala Fallaci il prossimo 19 gennaio alle 16.30, un viaggio alla scoperta di emozioni e sentimenti. La presentazione di un volume in Sala Fallaci che parla d'amore fa parte della tua trilogia, si parla in particolar modo anche proprio della difficoltà di amare. Sì, la mia trilogia che ho ideato e creato io, si intitola Tra il dire e il fare c'è di mezzo l'amore, fa parte di un'idea pensata tanti tanti anni fa, che però ho concretizzato solamente adesso, ho trovato la forza e il tempo di scriverla e di mettermi in gioco. Infatti sono tre romanzi, strutturati molto diversi, ma che hanno in comune i personaggi, anche se cambiano i protagonisti, che però il lettore ha la possibilità di trovare, speranza delle speranze di affezionarsi, magari leggendo il primo volume, e poi ritrovarli, quindi con le vicissitudini e tutto quello che capiterà ai primi personaggi, anche nel secondo volume, così nel terzo. La cosa bella è che poi la fine del primo si saprà solamente leggendo il secondo, la fine del secondo solamente leggendo il terzo. Questo insomma crea un po' di quella suspense che di solito la letteratura rosa viene anche un po' snobbata, di essere semplicemente la classica storia d'amore, che tanto sanno tutti come finisce. In realtà io ho creato queste storie pensando alla psicologia dei personaggi, perché è una storia per essere credibile, deve avere dietro una grande conoscenza e cercare di mettere insieme tante cose che non sono così scontate, come può essere appunto presentare una banale storia d'amore. Dunque, cos'è difficile amare? In queste storie sì, sono tre storie completamente diverse, anche perché i protagonisti hanno anche età differenti, però sono ambientate tutte e tre a Milano, quindi insomma sono anche storie in cui ci si può ritrovare i luoghi, anche se io mi piace anche un po' vagare. In questo secondo libro che presenterò soprattutto molte cose che accadranno ai protagonisti, ci saranno sia in Grecia, quindi insomma si viaggerà un pochino, nel terzo volume invece si andrà in Irlanda, insomma penso che sia bello anche scoprire luoghi diversi. Appunto questo è il secondo volume, il terzo è già pronto, quindi si parte da questa presentazione, si potrebbe presto arrivare a un altro evento di presentazione del terzo volume della trilogia. Esattamente, adesso questi libri li ho scritti appunto un po' di tempo fa, solo adesso ho trovato il coraggio necessario per pubblicarli e quindi rendere anche possibile leggerli al pubblico e quindi essendo già pronto, presto ci sarà anche la presentazione del terzo, sperando in un successo di questo secondo volume e quindi di riuscire a catturare un po' la curiosità, l'attenzione di chi lo leggerà e lo apprezzerà, speriamo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS